Allora io ovviamente sono quasi pronta e sono felicissima di questo make up ma anche dei capelli perché mi è venuto a trovare Carmine. Ciao! Ma guardate cosa ha realizzato per il gender! Cioè io sono davvero felicissima! Cioè non mi sono mai vista così! Sei bellissima! Grazie, grazie a te! Eccoci qua amici miei, allora oggi giornata speciale dei Zengavò! Grazie a te! 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 Il mondo di Meg e oggi vi portiamo con noi a un gender reveal molto speciale, quello di Adua Delvesco e Andrea Zenga. Siamo venuti la mattina in questa bellissima location a Milano e abbiamo iniziato allestendo l'esterno con le grafiche di WowSpot. Grazie a te! Io? Sì, dico a te! No eh! Non lo fare! Non lo fare! No, lo devi proprio fare! Via! Testa bassa e via e filare! Bene amici miei! No, noi siamo arrivati alla fine del video! No, noi siamo arrivati alla fine del video, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere il vostro like e cosa molto importante, lasciate il vostro commento sotto il video. No, noi ci vediamo molto presto da TenoTV!